Vi ho già raccontato qualche giorno fa della app che ho scaricato e che mi permette di parlare con gli sconosciuti. Si chiama Anyone, che possiamo tradurre con chiunque. Oggi vi voglio raccontare di cosa sta succedendo quando ho queste conversazioni con gli sconosciuti. Anzitutto come funziona? Funziona che voi date la vostra disponibilità, il vostro nome, e la app vi dice ok, fra tre ore c'è qualcuno disponibile, ti chiameremo così e ti faremo parlare con uno sconosciuto. La cosa divertente è che io prendo l'app, do la mia disponibilità, poi poggio il telefono sul tavolo e niente, aspetto che trascorra il tempo e c'è un vero e proprio countdown, quindi un conto alla rovescia, che crea un po' di agitazione perché ogni volta che poi il telefono squilla, perché c'è un vero e proprio squillo del telefono, tu parli con una persona che non vedi e c'è quell'adrenalina che non sai mai chi ci sarà dall'altra parte del telefono ed è incredibilmente interessante scoprire queste persone anche perché entri un po' nella loro vita. Finora ho fatto una decina di conversazioni e allora, anzitutto ho stabilito che la maggior parte delle persone che usano questa app sono persone che hanno a che fare con la tecnologia, molta gente che lavora con i computer, programmatrici, quasi sempre donne, forse non lo so, automaticamente fa parlare donne con donne, non lo so, però ho parlato con pochi uomini. Ieri ho parlato con una ragazza che anche lei aveva un'azienda di, non lo ho capito bene, di software, di controlli, di bonus o di che cosa, stava in Canada ed era molto occupata, si vedeva che parlava in fretta ed era distratta mentre parlava, infatti mi sono chiesa, ma scusa, vabbè non glielo ho detto, però ho pensato, ma se non hai tempo di chiacchierare, vabbè non dare la disponibilità, perché la cosa bella di questa app appunto è che aiuta a trascorrere del tempo, avete presente quando avete dei tempi morti e prendete il cellulare e vi mettete a guardare i social, ecco anziché fare questo io mi faccio arrivare delle telefonate. Allora devo dire che siccome questa app rispecchia effettivamente quello che è il mio atteggiamento da sempre, cioè parlare con le persone che non conosco, mi piace tantissimo, ho anche cominciato a pensare, ve lo devo confessare, a come poter utilizzare questa app per fare poi le cose che mi piace fare, cioè i podcast, le creazioni audio. Al momento non posso farlo perché ci sono naturalmente vietato registrare le conversazioni telefoniche senza avvertire l'altra persona, bisognerebbe chiedere l'autorizzazione. Comunque ci sto pensando a come utilizzare questa app che ha veramente molte potenzialità, infatti ne sto anche chiacchierando con l'ideatore della app e vediamo se qualcosa ne verrà fuori. Comunque vi metto il link nuovamente e vi invito a usarla, fate una prova, c'è la possibilità di dire la lingua che si vuole parlare, voi mettete l'italiano, provatela, ditemi cosa ne pensate. Comunque vi metto il справio